L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la manovra TER senza le parti impugnate. Visita lampo del Presidente del Consiglio Renzi giovedì a Palermo. No ai pregiudicati nella pubblica amministrazione. Il 118 pronto a licenziare alcuni dipendenti. Buonasera e ben trovati all'edizione di Media News di martedì 12 agosto. In 40 minuti l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la manovra TER senza però le parti impugnate dal Commissario dello Stato. Adesso la pausa estiva, i lavori riprenderanno il 16 settembre prossimo. Vediamo. L'Assemblea regionale ha chiuso per ferie dopo aver approvato la manovra TER senza le 21 norme impugnate nei giorni scorsi dal Commissario dello Stato. Il Governo si è presentato in aula con le tabelle rifatte senza le entrate cassate dal Commissario e compensando il minor gettito fiscale con le norme di spesa anche se bloccate. Qualche aggiustamento tecnico è la promessa di trasformare almeno tre delle norme impugnate in disegni di leggi autonomi. Fra questi soprattutto le norme sul prelevo delle pensioni da regionali. Ma i nuovi TDL saranno comunque argomento di settembre così come probabilmente la quarta finanziaria di quest'anno che si chiamerà assestamento di bilancio e arriverà in aula ad ottobre. Ma conterrà ben più di un semplice assestamento, Commissario dello Stato e Conti della Regione permettendo. L'Assemblea ha approvato anche due ordini del giorno, approvando la norma sui benefici in favore dei testimoni di giustizia e l'assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario. L'Arsa riaprirà i battenti il 16 settembre. Visita lampo del Presidente del Consiglio Matteo Renzi che giovedì prossimo sarà a Palermo. Il Premier torna alla vigilia di Ferragosto a tre mesi esatti dall'ultimo vertice in Prefettura. In quell'occasione aveva promesso tornerò ogni tre mesi per verificare lo stato di avanzamento dei fondi europei. Promessa dunque che sembrerebbe mantenuta. Ancora non si conosce il programma della visita ma il Presidente dovrebbe affrontare non solo il tema delle risorse europee ma anche la vicenda Eni di Gela ed ex Fiat di Termini Merese dove potrebbe anche fare una breve visita. E' polemica sulle parole utilizzate dal Ministro Alfano per annunciare misure straordinarie contro i venditori ambulanti nelle spiagge italiane. Basta con i Vucumpra così si è espresso il Ministro e subito c'è chi lo accusa di razzismo. Il nocciolo della questione può anche essere condivisibile ma le parole utilizzate a quanto pare no. Ed ecco che subito scoppia una polemica senza precedenti. Per annunciare un giro di vite sulla presenza dei venditori ambulanti sulle spiagge italiane il Ministro dell'Interno Angelino Alfano ha tirato fuori una parola molto usata nel linguaggio comune soprattutto qualche anno fa. I Vucumpra. Lo Stato scende in campo in estate per la prevenzione e il contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione recita proprio una nota del Ministero. Con l'operazione spiagge sicure i turisti e i nostri cittadini potranno tranquillamente trascorrere le loro giornate in spiaggia senza la processione dei Vucumpra prevalentemente extracomunitari dediti al commercio abusivo di prodotti di provenienza illegale. Immediatamente in rete si è alzato un coro di voci contro l'espressione ministeriale e addirittura in tanti hanno già accusato di razzismo il Ministro. Una gaffa, un'uscita poco piacevole o più semplicemente un'espressione usata con cognizione di causa senza voler offendere nessuno. Chissà cosa gli è passato per la mente. Una domanda però a questo punto sorge spontanea. È davvero così necessario affaticarsi nell'alimentare polemiche o sarebbe forse più opportuno concentrarsi in questo particolare momento storico su fatti ben più importanti come gli sbarchi di clandestini? Quella sì vera piega dei nostri tempi, a voi il giudizio. L'ex governatore della Sicilia, Salvatore Cuffaro, che sta scontando la condanna a sette anni di reclusione per favoreggiamento personale e rivelazioni di segreto d'ufficio aggravati dall'aver aiutato Cosa Nostra, non ha diritto di chiedere la correzione della pena perché l'aumento di pena deciso in appello e confermato dalla Suprema Corte non ha ecceduto i limiti previsti dalle norme ed anzi è ben inferiore al massimo consentito. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Si tratta dunque della seconda volta che l'ex governatore vede deluse le proprie speranze di uscire in anticipo dalla cella del carcere romano di Rebibbia. Ancora sangue nelle strade siciliane. Una giovane di 25 anni, Maria Grazia Modesto, è morta a Palermo in largo Cristoforo Colombo alla D'Aura nell'impatto della sua vettura con una cabina dell'Enel. La giovane è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Ed è deceduto anche il pensionato di 73 anni, Vincenzo Vitale, dopo 20 giorni di agonia, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto il 21 luglio scorso in via Partanna a Mondello. L'uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'automobile. No ai pregiudicati nella pubblica amministrazione. Il 118 si dice pronto a licenziare i dipendenti con la fedina penale sporca perché incompatibile con la permanenza in servizio. Vediamo. I pregiudicati non possono lavorare nella pubblica amministrazione e così almeno 25 dipendenti della SEUS sono adesso a rischio licenziamento. La società partecipata della regione che gestisce il 118 sta passando al vaglio le posizioni di tutti i 3.270 suoi dipendenti. Sono numerosi quelli che risultano con la fedina penale sporca per reati anche di una certa gravità. 400 risultano indagati o già condannati. Si parla di concorso in associazione mafiosa, sfruttamento della prostituzione, omicidio colposo sotto uso di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e ancora furto, ricettazione, detenzione e spaccio di droghe, falso ideologico, truffa ai danni dello Stato, resistenza pubblico ufficiale, violenza privata e maltrattamenti. Tutta una sfilza di reati che non sarebbero compatibili, e questo sembra abbastanza ovvio, con la permanenza in servizio. A decidere su come procedere adesso sarà il Consiglio di gestione che dovrà basarsi sul codice penale, sul codice etico aziendale e sulle altre disposizioni in materia emanate dall'assessorato regionale alla salute. Di tutto ciò si era occupata nei mesi scorsi anche la Commissione Sanità all'Ars. La magistratura ha aperto un'inchiesta a Palermo sulla morte di un novantenne, Salvatore Campanella, operato per la rottura del femore nel reparto di ortopedia del Policlinico. L'indagine è stata avviata dopo la denuncia presentata dai familiari dell'anziano, secondo cui l'uomo sarebbe rimasto per ben 15 ore agonizzante in un letto dell'ospedale, ignorato dai camici bianchi di turno, sorpresi nella sala dei medici, a mangiare della pizza e a bere birra in compagnia degli infermieri. Dopo l'esposto ai carabinieri, il magistrato ha disposto il sequestro della cartella clinica e l'autopsia. Cambiamo argomento, polemica sui beni confiscati. Il sindaco di Palermo dice in questo modo si vanifica la legge Rognoni-La Torre e chiede di usare gli immobili per uso abitativo. Vediamo. Si continua a vanificare la legge Rognoni-La Torre e il suo alto valore giuridico ed etico, con una gestione non più sostenibile di quel patrimonio rappresentato dai beni confiscati alla mafia per quanto riguarda sia il suo uso sociale sia la tutela dei livelli occupazionali. Questa è la risposta del sindaco di Palermo, Leluc Orlando, al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla Immobiliare Strasburgo al Comune per circa 30 milioni di euro. Orlando, in qualità di sindaco di Palermo e di presidente dell'Anci Sicilia, ha quindi inviato una lettera al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, e al presidente dell'Agenzia dei beni confiscati alla mafia, Umberto Postiglione, per chiedere che venga convocata un'apposita riunione dedicata alla situazione in Sicilia, in particolare nella città di Palermo, regione città in assoluto le più interessate in Italia da estese confische di patrimoni mafiosi. Il sindaco ricorda che numerose sono state in passato le prese di posizione e le denunce sue e di altri per la criticità e la sottrazione a fini sociali dei patrimoni confiscati e mafiosi. La sistematica mancata assegnazione di immobili per uso abitativo, sottolinea Orlando, impedisce di affrontare la sempre più grave emergenza abitativa. È una situazione inaccettabile di cui, insieme alla insostenibilità della gestione, sono confermate la farraginosità di procedure e tempi di assegnazione ai comuni e il recente e infondato e illuminante decreto ingiuntivo per circa 30 milioni di canone di locazione di immobili per uffici e scuole di spettanza del Comune di Palermo. Sono stati liquidati ed eseguiti i bonifici per 51 lavoratori GESIP che hanno usufruito dell'esodo incentivato. Sono in corso di esecuzione a seguito di acquisizione della documentazione già richiesta i bonifici per altri 23 lavoratori. Si tratta di un primo positivo risultato della procedura avviata dall'amministrazione comunale in favore dei lavoratori di GESIP e anche di altre partecipate, ha detto il sindaco Leo Luca Orlando. Tale procedura si inserisce in un più ampio percorso volto a garantire continuità di servizi di aziende partecipate, garanzia dei diritti dei lavoratori e sostenibilità finanziaria. Nelle prossime settimane saranno posti in essere ulteriori iniziative di tali percorso. Dopo otto mesi dalla consegna dei lavori avvenuto è tutto pronto per l'avvio dei lavori della rete fognaria in via Palmerino e in via 2 Vanelle. Infatti il Servizio Mobilità del Comune di Palermo ha emesso l'ordinanza di limitazione al traffico veicolare. Era ora, dichiara il presidente della quarta circoscrizione, Silvio Moncada, dopo 20 anni di attesa e numerosissime conferenze di servizi. A dicembre scorso con la consegna dei lavori sembrava tutto pronto. Invece sono trascorsi ulteriori otto lunghissimi mesi nei quali l'amministrazione comunale ha dovuto superare diversi intoppi burocratici. L'importante è che adesso inizino i lavori di questa importante opera pubblica che consentirà ai cittadini di poter fruire di un servizio di prima necessità per tanto tempo negato. Crisi Sigma firmata la cassa integrazione per 260 lavoratori impegnati nei 17 punti vendita. Per domani intanto è attesa una riunione con la Marta SRL, azienda veicolo che ha manifestato interesse per l'acquisizione di 13 punti vendita. La riunione è molto importante, commentano i sindacati, perché servirà appunto a definire l'accordo facendo in modo di salvaguardare il maggior numero possibile di posti di lavoro. A Lampedusa, grazie alla sinergia tra la soprintendenza di Agrigento e il Comune, è stato dato il via, dopo due decenni, ai lavori di ristrutturazione e di allestimento del Museo Storico delle Pelagie. Due gli spazi interessati dai cantieri, l'antico edificio di Piazza Castello che domina il Porto Vecchio e il Dammuso di Casa Teresa, dove verrà messo a punto un progetto finalizzato al recupero delle antiche essenze arbore e alla memoria del paesaggio attraverso la lettura delle fonti storico-documentarie ed iconografiche. Il progetto mira dunque al recupero dell'identità locale e della consapevolezza dei valori culturali della comunità. Il Comune di Palermo informa che il giorno di Ferragosto la Galleria d'Arte Moderna Sant'Anna, il Museo Etnografico Siciliano Giuseppe P3, Santa Maria dello Spasimo e l'Ecomuseo del Mare saranno regolarmente aperti al pubblico. Orario di apertura 9.30-18.30 senza interruzioni. Con questo è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione e come sempre appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti.